Bella a tutti ragazzi bentornati io sono Andrea siete sul mio canale come va va oggi vi voglio parlare di una storia che mi è successo allora ero suo amigol e volevo fare qualche scherzo da caricare sul mio canale ma poi un ragazzo è riuscito a catturare la mia attenzione grazie alla sua bravura grazie al suo talento quindi parlando con lui in chat ho deciso di riprendere tutto chiedendo comunque a lui l'autorizzazione di riprendere tutto e filmare registrare la sua grande il suo grande talento e caricarlo sul mio canale primo per mostrarvi comunque che in questo sito cioè in amigol non si trovano solamente porcherie ma a gran sorpresa si riescono a trovare anche persone italiane con grandissimo talento e poi perché volevo mostrarvi volevo capire da voi se questo ragazzo piace anche a voi oppure è solo una mia impressione il ragazzo si chiama Manuel ha un canale youtube che vi metterò sotto in descrizione un piccolo canale che non segue tanto ma magari adesso partirà gli dedicherà più tempo niente ragazzi va dalle ciance io vi lascio al video e dopo aspetterò i vostri commenti qui sotto un po' di più Sei un grande Grazie Sei un grande Ti chiami? Manuel Ok Poi metterò anche il link del tuo video Sei veramente bravo Spero che comunque qualcuno su Youtube Ti osservi Vai avanti così Visto che sono 5 mesi che fai Fai questo Personalmente ti dico Hai tantissimo talento Sai tanti talenti in Italia rimangono soffocati Cerca di Di portarlo avanti Se ti piace Sei il tuo sogno Portalo avanti Perché Non devi soffocarlo Sei veramente bravo Non è facile Non è per niente facile Ti dico soltanto che da bambino Cioè io Io da 7 anni Cioè io conoscevo Però non mi sono mai impegnato Da bambino Da solo mi provo a fare Solo Forza E mi ci divertivo sempre Poi ho iniziato a fare Per esempio E metto insieme Poi da 5 mesi fa Ho detto Vabbè mi ci metto Perché avevo visto Su alcuni video di Tala Scott Island Perché io mi seguo molto Ste cose Avevo visto Quello di Amir E quello di Isam Che erano Che sono andati là Sono arrivati in semifinale E là mi sono detto Abba lo faccio pure io Poi ho iniziato a vedere su YouTube Un mese di tutore E il resto ho fatto da solo Bene Bene Ascolta ti volevo chiedere Se organizzo una live Su YouTube Con altri miei amici Che hanno un canale Ti vorresti unire Così magari parliamo Anche del tuo talento Mi contatti su Facebook E me lo dici o no? Ti contatto su Facebook Sì Allora Il mio Facebook Se te lo puoi segnare Aspetta Spero che te lo cerco Direttamente Fa carica la pagina Sì Così mi mandi un messaggio E mi rimane Bene ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Che il ragazzo Vi abbia stupito Vi abbia emozionato Come ha fatto con me Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Se non vi è piaciuto Mettete un dislike Non c'è nessun problema Mi raccomando ragazzi La cosa molto importante Iscrivetevi al mio canale Così rimarrete sempre aggiornati Sui prossimi video E mi renderete veramente felice Ci vediamo alla prossima Ciao Beggi Grazie a tutti